io resto a casa con radio pnr per trascorrere al meglio questo tempo il nostro ospite oggi è ciao sono patrick orlando sono di novi ligure e ho 34 anni sono un ingegnere e per hobby tento di fare musica al pianoforte compongo da diversi anni ho iniziato a suonare quando avevo 14 anni dopo ho avuto una piccola breve esperienza con un gruppo musicale dove si facevano delle cover ma poi ho continuato a dedicarmi alla composizione nei prossimi minuti sentirete alcune delle mie canzoni musiche che io ritengo migliori ognuna di queste musiche hanno una loro storia che vi spiegherò adesso sarà da facendo questo brano si chiama isabelle è un brano che è stato composto in un periodo molto particolare della mia vita che mi ha toccato molto ed è uno dei tra i miei feriti che ripropongo spesso nei miei concerti in giro buono ascolto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti questo brano si chiama rinascere ed è un brano che ho riproposto recentemente per appunto essere un invito al rinascere alla voglia di riniziare dopo che questo periodo difficile della pandemia del lockdown e tutto quello che ci circonda finirà e buon ascolto grazie a tutti 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 grazie a tutti